Assessore, da quando parte la carta bebè e a chi è rivolta? La carta bebè parte, la bebè card, parte immediatamente, è rivolta a tutti i nuclei familiari che hanno un reddito sotto i 17 mila euro ISEE, a cui è nato un bimbo dallo scorso aprile o a cui nascerà nei prossimi mesi un bimbo o una bimba. È uno strumento di sostegno al reddito particolare perché non sono soldi cash ma è una carta che ti dà la possibilità di acquistare prodotti per la cura e la crescita dei più piccoli in un lungo elenco di negozi milanesi oppure di acquisire ore di assistenza familiare, tate o altro o di avere anche delle opportunità per il nucleo familiare a prescindere, in questo caso dal bambino o dalla bambina. Ha un valore complessivo di 1800 euro annui e diciamo che è uno degli strumenti di sostegno al reddito che si aggiunge a quanto già il Comune fa. Cosa deve fare una famiglia per avere la carta materialmente? Può rivolgersi al sito del Comune, comune.milano.it o al sito di Uimi che è la nostra piattaforma riguardante i servizi di assistenza familiare, uimi.milano.it e vi è poi una rete di CAF accreditati sul territorio dove la carta si può richiedere e nel caso si abbiano i requisiti avere.